buongiorno a tutti da Johannes e siamo qua per il gioca con me con i Tarocchi degli Spiriti Verdi. Mi presento perché ancora non mi conosce, sono uno dei coautori di questo libro, i Tarocchi degli Spiriti Verdi, insieme a Dan e a Will Reiter. Io principalmente mi sono occupato delle illustrazioni dei Tarocchi e di alcuni esercizi energetici o rituali o cerimonie, chiamatele come preferite, che si possono realizzare con queste carte per poter trasformare la nostra energia e far sì che tutto fluisca più liberamente, esattamente come accade nella natura. Queste carte e i disegni di queste carte sono state preparate con determinate cerimonie che l'utilizzo principale era quello di imprimere l'energia, lo spirito degli alberi o delle piante che sono state rappresentate, così che avessero anche una valenza, una funzione non solo simbologica, non solo archetipica, ma anche energetica dell'albero, della pianta che rappresentano. La differenza è che gli spiriti degli alberi sono un pochino più spirituali, più simili agli uomini, mentre invece le piante hanno un'energia più intensa, molto più terrena, se si può definire così. Quindi ora andiamo a vedere le tre letture di oggi. Allora, poi naturalmente vi dico subito che se siete interessati ad ordinare il nostro libro con gli esercizi e le carte, potete farlo facilmente scrivendoci al nostro indirizzo e-mail spiritiverdi.gmail.com oppure alla nostra pagina Facebook i Tarocchi degli Spiriti Verdi, scrivendoci privatamente, lì vi daremo tutte le informazioni sui costi, gli ordini e le spedizioni, perché in questo momento viene venduto sia il libro, non si possono vendere separatamente, perché a volte le persone mi chiedono se si possono comprare solo le carte e non il libro, non sono vendibili separatamente perché le carte senza il libro sono praticamente, sì, si possono leggere, ma si va a perdere tutto lo scopo energetico e rituale che troverete all'interno del libro, tra cui anche una cerimoria per attivare queste carte. e andiamo a vedere come sarà la lettura di oggi. Ok, ho finito tutto con la pubblicità. E allora, oggi le tre scelte erano con l'occhio, l'albero e la spirale. Iniziamo con l'occhio, faremo tre letture, quindi, quest'occhio, vediamo cosa ci vuole raccontare a chi ha fatto questa scelta. E in questo periodo, in questa seconda, ormai seconda metà dell'estate, ci stiamo avvicinando all'autunno e quindi magari molti di voi saranno in vacanza e vorrà anche comprendere come ci si riaffaccerà, diciamo, alla vita lavorativa o comunque alla vita che sta arrivando in autunno. Quindi ritornare a lavorare, la routine, eccetera, eccetera. Come saranno queste fine vacanze, ecco. Bene, sto mescolando le carte mentre sto charlando, diciamo così. E andiamo a scegliere la prima carta, il primo spirito verde, per chi ha scelto l'occhio, che andrà a rappresentare l'energia quello che la sua anima, il suo spirito, sta suonando in questo momento. Bene, scegliamo la prima carta. Salice. Questo probabilmente è un albero molto femminile, già dalla figura si osserva. Diciamo, è un albero molto legato all'elemento dell'acqua e in questo caso ci sta dicendo che questa persona sta molto bene nella sua bolla, sta molto bene nel suo proprio spazio, non vuol far entrare niente d'esterno nel suo proprio spazio. che questo va benissimo perché proteggendo il nostro spazio, la nostra bolla, ci permette comunque di rimanere sereni, rimanere tranquilli, rimanere... non lasciarci troppo trascinare da energie estranee a noi, però allo stesso tempo ha un piccolo problema che è una sorta di chiusura in se stessi che questo impedisce anche di fare entrare le cose positive. Quindi è quello che accade, il salice in prima carta, quando uno è troppo protettivo, troppo autoprotettivo. Questo va bene perché è utile per la sopravvivenza oggigiorno, però anche per difenderci dai pensieri negativi, dalle situazioni negative, eccetera, eccetera, che tutti noi stiamo vivendo, però è anche comprensibile che stando troppo chiusi in questa piccola bolla di felicità ci perdiamo molte altre cose, molte altre opportunità che sono al di fuori di questa bolla. Infatti, la seconda carta sarà quello che ci spetta al di fuori di questa bolla. Il pino. Il pino in questa posizione ci dice che quello che a noi ci aspetta sono delle situazioni personali, anche molto intime, infatti vediamo lo spirito del pino che ha gli occhi chiusi, quindi è rivolto lo sguardo dentro si stesso che vanno affrontate. Che vanno affrontate perché solo attraverso questa osservazione che il mondo esterno ci fa da specchio, in questo caso, di un aspetto di noi stessi, ci permetterà di raccogliere delle piccole perle che magari non sappiamo che sono lì ad aspettarci. Ora andiamo a prendere la terza carta che è quello che canta diciamo il mondo interiore di questa persona. Ciliegio. Quindi, sì, queste persone in questo momento dentro di sé stanno vivendo un momento di bellezza e di grazia e anche di godimento, diciamo, del momento, però sta dimenticando, diciamo, di osservare degli aspetti che in questo momento non sono proprio molto piacevoli ma sono utili per raccogliere. Vedete che questo personaggio sta raccogliendo qualcosa, sta raccogliendo delle pigne in questo caso, eccetera, sta a raccogliere delle cose che poi ci può servire per il futuro. andiamo a vedere l'ultima carta che rappresenta un suggerimento, diciamo così, rosmarino. Il rosmarino ci suggerisce in questa situazione di effettuare un lavoro di riequilibrio, soprattutto a livello delle nostre cose che ci fanno arrabbiare, delle cose che ci accendono, però non è l'accensione, qui non si parla di accensione di passione, qui si parla di accensione di rabbia. Quindi, magari, queste cose che andiamo a raccogliere servono proprio per andare a risolvere questi meccanismi, queste situazioni o questi processi della nostra vita che a un certo punto ci portano ad essere preda della nostra stessa rabbia. o della rabbia del mondo, o della rabbia che noi provochiamo al nostro intorno, ecco. Perché non è detto che sia solo nostra, può essere anche qualcosa vista dall'esterno che viene affrontata con rabbia. Bene, questa è la prima lettura, naturalmente, questo vale per tutte le letture, lo dico la prima, non lo ripeto più. questo che vedete qui è un quadro generico, naturalmente, questo quadro generico può essere trasformato sempre attraverso degli esercizi che troverete all'interno del libro di cui vi parlavo. Io, in questo caso, lavorerei specialmente, per esempio, in questa lettura con la carta del pino. Bene, andiamo a vedere la seconda lettura che è la spirale, quindi, vi ricordo sempre che la spirale è questo un occhio di santa logia per la precisione che è un elemento che si usa molto in gioielleria, questo in particolare è stato un regalo. Andiamo a vedere cosa canta la vostra anima con la prima carta. l'edera. Quindi, in questo momento, la vostra anima è in una situazione in cui vuole raggiungere determinati obiettivi, determinate cose, determinati scopi o progetti, eccetera, ed è lì che cerca di arrampicarsi esattamente come l'edera in tutto ciò che può per raggiungere le sue mete. E allo stesso tempo questa carta ci racconta che questa persona o queste persone che hanno fatto questa scelta sono anche persone con una forte determinazione, non sono persone, diciamo, persone con una forte volontà di raggiungere questi obiettivi, solo che questa determinazione se non è ben gestita, ben controllata, si può trasformare in distruzione, soprattutto non tanto verso noi stessi, ma verso le persone che ci circondano. pensiamo all'edera che quando un albero ha troppa edera va a soffocare l'albero, va a soffocare la pianta, quindi è molto importante per queste persone mantenere un determinato equilibrio. Andiamo a vedere col mondo esterno cosa accade. anche qui è riuscito il ciliegio, quindi nel mondo esterno in questo momento questa persona, queste persone stanno vivendo un periodo a livello sociale, a livello familiare, a livello del mondo esterno che potrebbe essere anche lavorativo o comunque un lavoro connesso al mondo esterno, ciò che è fuori di noi un aspetto molto positivo magari di riscoperta della bellezza del mondo, riscoperta della bellezza di se stessi, di sentirsi belli, di sentirsi attraenti, magari si sta cercando un nuovo amore, un nuovo fidanzato, una nuova fidanzata, comunque si è si sono messe in moto determinate cose che ci rendono particolarmente attraenti perché ha fatto questa scelta. Andiamo a vedere la terza carta che è la carta del mondo interiore, quello che va cantando gli spiriti verdi in questo momento e aprendo la terza carta. Verbena. Bene, qua vediamo che questo trittico di spiriti verdi in particolare è un albero due piante, come dicevo prima c'è una piccola differenza tra gli alberi e le piante, la verbena è sempre legata all'amore, sempre legata alla riscoperta della bellezza di sé, quindi in questo caso essendo legato al mondo interno credo che sia più legata al mondo a riscoprire una bellezza interiore più che fisica, perché il ciliegio ci parla in questo caso mondo esteriore sia di una bellezza fisica, quindi nel mondo esterno bellezza fisica, attrazione, eccetera e verbena nel mondo interno ci parla di bellezza interiore, quindi probabilmente questa edera che sta cercando di arrampicarsi su varie piante sta in realtà cercando l'amore, cioè perché qui mi parla proprio di la ricerca dell'amore, ricerca di un compagno o una compagna o di comunque di viversi l'amore ecco, in generale. Vediamo la quarta carta che è il suggerimento è la betulla, in questo senso la betulla ci ricorda, ricordatevi di avere cura, allora se state cercando l'amore, se state cercando di creare una nuova relazione, eccetera, abbiate cura dell'altra persona e anche di voi stessi, perché la betulla parla di cura sia verso l'esterno ma sia anche di noi stessi, di non dimenticarvi, magari questo suggerimento ci sono persone che sono troppo rivolte agli altri, quindi si dimenticano di se stesse, quindi in questo caso la betulla dice abbiate più cura di voi stessi, invece se ci sono le persone magari che hanno un forte amor proprio e diciamo trattano gli altri diciamo con più superficialità, qui ci dice abbiate più cura delle persone che vi circondano, che potrebbe essere anche la famiglia, in questo caso, perché la betulla rappresenta un po' la mamma degli alberi. Bene, ora andiamo a vedere la terza e ultima lettura di questa settimana, che avevo preso l'alberello, ok, e andiamo a vedere cosa ci dice questa terza lettura oggi. Andiamo a scegliere la prima carta, che rappresenta, comunque mescolando le carte mentre sto giarlando, vediamo anche ha fatto questa scelta cosa vi vogliono raccontare i tarocchi degli spiriti verdi. Allora, prima carta, che rappresenta un po' l'essenza della persona, quello che sta cantando in questo momento, qui rivediamo la betulla, quindi in un momento in cui magari questa persona si sta rendendo conto che o si deve prendere più cura di sé o deve prendersi più cura delle persone del clan, della famiglia con cui vive, perché magari in questo momento è preoccupata o magari è una persona che o semplicemente è molto concentrata sui propri figli o semplicemente deve prendersi cura di un familiare, eccetera, quindi è molto sul cura, mi devo prendere cura, 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 qui Virtulla parla proprio di cura e potrebbe essere anche prendersi cura di sé, come dicevamo esattamente prima. Sto rimescolando le carte andiamo a prendere la seconda, il mondo esterno, diciamo così. Ficus religiosa, il mondo esterno vi sta dicendo di riavvicinarvi al mondo dello spirito, quindi magari proprio per questo senso di cura vi state riavvicinando a qualcosa che è di spirituale che potrebbe essere legato comunque alla cura. In questo caso potrebbe essere la meditazione, per esempio, quindi cercare una serenità mentale, cercare di trasformare determinate energie, determinate situazioni, eccetera. Comunque, per esempio, per chi ha scelto questa lettura, lavorare con questa carta, il ficus religiosa, attraverso gli esercizi che ci sono nel libro, potrebbe aiutare a sviluppare questo senso di cura e questo senso di benessere utilizzando proprio la meditazione in questo caso. Andiamo a vedere la terza carta che è l'edera, quindi qui rivediamo l'edera dell'edera, quindi a questo punto nel mondo interno c'è qualcosa che vi sta spingendo, una forza interna che vi sta spingendo a recuperare delle cose che magari sentite che avete perso recentemente o negli ultimi tempi, delle situazioni, delle persone, delle opportunità, dei progetti, eccetera, c'è qualcosa che avete perso che dovete recuperare e io penso che dalla lettura generica con il discorso del ficus religioso qui quello che si è perso è proprio un contatto spirituale, io penso questo, poi naturalmente ognuno sa per sé e la quarta è l'ultima l'ultima carta degli spiriti di verità un suggerimento ed è apparso l'abete questo vi sta dicendo che dovete recuperare la vostra direzione dove volete andare è come se una parte di voi sia un po' persa nella mente nelle emozioni nei problemi della vita familiare perché comunque ricordiamoci che nella prima carta di base c'è sempre la betulla che ci parla anche di situazioni familiare e dovete un po' rindirezzare le vostre energie i vostri progetti le vostre intenti verso anche questo aspetto spirituale che si manifesta diciamo nel mondo esterno e da cui sentite una forte spinta nel mondo interiore data dall'edera bene con le letture di questa settimana ho terminato vi ricordo che se volete ordinare il libro dei tarocchi di spiriti verdi e questo mazzo di carte lo potete fare scrivendoci a spiritiverdi ghiocciolagmail.com o semplicemente scrivendoci privatamente sulla nostra pagina facebook i tarocchi degli spiriti verdi vi mando un abbraccio da Ioannes a presto a presto